ciao unboxing una mia passione diciamo che non sono un gamer vabbè però si vede si non sono un gamer però avendo un computer come sguaro avendo un computer non proprio nuovissimo un gioco dei giochi di simulazione c'è qualche c'è un video forse due su e avendo messo windows 10 avevo windows 7 questo questo gioco qua aveva dei problemi con le dirette x10 che praticamente io l'ho già visto l'ho già notato praticamente funzionava solo con windows 10 l'ho detto già quasi quasi mi prendo windows e windows e carmi simulator questa è la versione collector edition piccolina la scatola adesso l'apriamo c'è anche un si vede praticamente dovrebbe essere a quanto pare un lampeggiante per quando uno trebbia o quelli che la porto di cv che dovrebbe lampeggiare quando la trebbia è esserci un po di riflesso c'è un po di riflesso e dovrebbe lampeggiare quando la sarebbe e tanto alla fine costava due euro in più niente di che nella fine alla fine ho detto già quasi quasi tanto costa poco di più che mi promette bene perché ha una maggiore io sto usando farmissima 2019 e sinceramente a poco 2022 ho visto che c'è delle cose in più un pochettino tipo mi sembra che poi addirittura piantare le viti vediamo quindi sembra aver visto un qualcosa si a questa è una specie di sticker si spiega praticamente cosa si vende ma adesso lo vediamo alla fine costava poco di più costava 23 e arrivava subito differenza dell'altro che arrivava dopo un bel po allora questo è il gioco si vede sì in pc api digit a download si vabbè sarà probabilmente per gli aggiornamenti allora questo signora questa è una mappa no madonna che non si mancare in formato a 2 addirittura è perché ne questa da appendere la formata 3 è troppo grande non riesco a farvela vedere probabilmente questa cosa deve essere una mappa standard infatti diciamo che è una cosa che serve fino a a un certo punto perché tanto dentro nel gioco come penso nel 2019 c'erano è bella da tenere diciamo o questa è una cosa bella questa è un'altra mappa ah perché sono qui c'è un'altra mappa che però c'è sinceramente donate il gioco la puoi tenere per se la vuoi apprendere diciamo se si è un appassionato è diciamo una chicca diciamo qui c'è un'altra mappa ancora h troia un'altra mappa ancora si si è proprio però ovviamente con come solito poi ci sono anche le mod che diciamo che una chicca per per da tenere come come poster alcuni giochi so che mettono i poster magari ma qui c'è dentro dovrebbe un altro perché ovviamente questi qua sono tutti c'è il gioco non è non è una cosa no sono i sticker questi sono per chi diciamo io un pochino sono appassionato no però questi qui sono nomi veri sono nomi veri e sono modelli veri crampe comazzo per la regoletta sono tutti i nomi veri in questo non ho capito cosa siano assoluti adesivi new holland e beh se non conoscete new holland sono tutti adesivi queste qui si sono attive di samson si 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 sono tutte cose diciamo che le puoi tenere per metterle da tenere da conservare è una cosa diciamo un po' una chicca così vabbè questo è il gioco a questo è non è il gioco queste sono i modi in tutorial praticamente perché questo gioco come tanti altri giochi soprattutto per pc è molto diciamo modabile nel senso e la casa madre diciamo che è la giants e questa non la faccio vedere se si si vede possiamo dare una parte opposta aveva e comunque laриa la lara é una casa che ti dà la possibilità sia almeno almeno nel 2019 ti dava la possibilità proprio all'interno del gioco oltre che nei siti di usufruire delle mod diciamo delle cose in più che che non era presente ne giocano e questo adesso il lampeggiante c'è ma si può questo qua dovrebbe essere attaccato alla porta usb ma pensate questo lampeggiante ma pensate praticamente questo qua dovrebbe dovresti attaccarlo e questo qua in teoria dovrebbe segnalarti quando almeno io che sapevo poi non lo so dovrebbe segnalarti quando la trebbia ha finito di poi non so se altre funzioni almeno io ho visto nel 2019 potete quando la trebbia finito il carico sta finendo il carico questo quando dovrebbe iniziare a lampeggiare no? è affucinante poi c'è il suo cavetto lo proveremo magari lo proverò dipende se o comunque lo tieni come reliquia nel senso come intanto devo vedere se il mio computer tra virgolette regge parte che non sono giochi particolarmente non sono giochi particolarmente diciamo non è come un gioco di nrpg per dire non so per chi riconosce sono giochi abbastanza tranquilli almeno il 19 ho un amd dual core 3000 con 4 giga di memoria poi vedo se è il caso magari può darsi che magari tanto alla fine è un compito abbastanza non dico che chiotto però non è tanto recente se sarà il caso magari è una buona cosa né per aggiornarlo sicuramente perché comunque visto che adesso ci sono quelle cose allucinanti però nel senso se alla fine funziona magari con la risoluzione bassa non è che sono particolarmente particolarmente esigente diciamo che ultimamente mi hanno raccontato che sono di quei giochi che non dico che sono quasi arrivati alla realtà ma ma poco poco ma c'è dei colleghi che giocano su su xbox e praticamente ho scoperto che c'è un account per chi diciamo è e dentro nell'ambiente è tipo amazon prime una cosa del genere praticamente a rotazione ci sono dei giochi che tu puoi poi poi scaricare dopo un po come i film non un po scadono però è tra virgolette mi hanno detto che c'era anche questo questo fami simulatore 22 se poi lo volevo utilizzare come ho fatto io c'hai la versione pagata l'ho pagato circa 50 50 euro e mentre va beh ovviamente col pc costano un pochettino meno mi sembra almeno io che sapevo costavano un filino meno 70 euro c'ho anche uno youtuber che seguo seguitelo anche voi se siete appassionati di agricoltura si chiama no si chiama il canale youtube si chiama il salotto di giuliano e poi cercate sicuramente c'è il link anche perché lui è proprio un agricoltore e lo seguo anche su lo seguo anche su youtube perché lui è proprio un agricoltore e si diverte a giocare quando c'è la passione e si diverte a giocare con fami simulare con 2022 va bene adesso proverò magari a vedere se funziona se va speriamo o se no è magari l'occasione per poterlo possa ragionare mio computer